Ma c'è assaltato? Ma che cosa vuoi? Ma Peppino dov'è? Mi sono evoluto Ora sono Peppekiller Sì, ora è Peppino Ma non è solo solo Ma... Io non ho capito come, comunque Perché non mi ha dato... Attenzione, squadra d'assalto in ingresso nella zona Pronti a ricevere odi Weaver, non riesco a contattare una delle nostre unità di ricerca d'asa Squadra d'assalto Raggiungete le coordinate e valutate la situazione C'è la macchina, vogliamo prendere un attimo la macchina Cioè, a sto punto ti puoi unire anche se siete in partita Solo ti puoi unire Perché io non sono unito che poi state iniziando Aspetta, manca Peppekiller Oh, parola Peppino è rimasto solo Mi manda in biti Ok E io gliel'ho detto, finiamo questa etica Ok Ma Brown non si è scaricato lui Oh, ci sono le gemme, le gemme, le gemme, le gemme, le gemme Sì, sì Lui c'ha col tuo cuore di defend Ah Sì, qua c'è una gemme, non raiamo Non raiamo solo Anche le gamme, le gamme Non raiamo Mi guardate che non è lì Non raiamo Non raiamo Non raiamo Non raiamo Non raiamo Non raiamo Qua, qua Stiamo uniti Sì, io di capo Siamo? Possiamo Verso a destra Verso a destra Ci siamo Zom Stando qua possiamo andare tutto a piedi Che più tempo perdiamo Ammazzare le zom E prendere soldi E' meglio è Quello è di l'aria Ma è dentro Questo è l'elettro di un po' finito Ma è dentro Ma è dentro Ma è dentro Ma è dentro Peppe, scappa Peppe vuole pushar Il paga-pugge è dall'altra parte Andiamo, andiamo Dobbiamo difendere un'aria Sì, stai messo Eh, ma quello ci dobbiamo andare prima Per attivare Ah, ok, perfetto No, no, Pippo Facciamo a piedi Eh, ma io l'ho sotto la macchina per ne aggiungere Pino, andiamo, non ne ammazzare Aspetta un po' su Ok, vabbè, scusa Voglio prendere un posto dove ce ne sono Andrere la macchina, piglio Ma voglio Ma chi è quello là, Goku? Quello è forte Quello è forte, ci sono i cani che esplodono Va, 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 va Ma chi è terminello? Quello lo sparo qui oggi Ok, vado Ma scusa, prendetevi la corazza Uh, le gemme Prendetevi i materiali Guarda, 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 guarda Guarda, guarda Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Questi, qua sopra Ok, è giumpad Che lì, prendiamoci Per saltare in aria Poi apriamo in paracadute Ma costano Bellissimo Però costano Facciamo questo Vai, senza i materiali Leggemi Dobbiamo vendere le gemme Vediamo più c'è mai possibile Qui è senza i materiali Andiamo Allora, di qua, di qua, andiamo Ma poi ci da un'abilità Sì, vabbè, ci possiamo separare un pochettino Perché tanto ancora I zombie Arrivo, arrivo, arrivo Magna 2 e 2 Andiamo all'inizio Oh no, prima di che noi che fai Ahahahah Bene, qui, non vedibili Chia, come salta ai muri Ma com'è possibile? Si, salta più alto I container salto direttamente Pazzesco Gemme, gemme Vipo, andiamo verso... Andiamo a funghi, dai Vedi, c'hanno cani là davanti Un sacco Eheheheh Munizioni, munizioni Munizioni Bravo Minchia, pieno pieno Non c'è niente, eh? Si, si, qua davanti C'è niente, ho visto Eh, Pedro, eh Dai un po' Qua c'è qualcosa Qua c'è qualcosa, Vipo Questo non lo resta mai Reliquia del drago Reliquia del drago Ti raccogli Sai di tua madre, queste Ah, le gemme che prendiamo Inizia di riementare Ok Oh Oh, questo c'è Va cacca, va cacca Va ucciso quel mondo Bellissimo Ah, questo qua è simile a quello che c'è la su... 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 Si Si, che... Si, che... Si, che... Si, che... Si, che... Si, che... Si, si... Fate le spalle Fate le spalle Fate le spalle Fate le spalle Bravi, bravi Così Spaziale Dobbiamo stare qua in mezzo, raga Così, non lo vengono fuori máquina Spaziale Ench, esca, esca Eh, esca, esca Fatto Perfetto Si, che cia, lanci, minchia, dal r violine Si, che avvo' all Qua sei? massima potenza mario raccoglierà il 3 senso per fare una ricompensa bellissimo raga bellissimo e dammelo rpc maledetto e non lo posso buttare lo devo cambiare con un altro bello 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 bastardo ora la vado a comprare nella cazzo no no vabbè tanto lo trovo che l'ha preso il lancio a razzi chiso stava lpg kill master no master vai le missioni stazione di ricompensa accoglie essenziali allora per adesso è comune se andiamo avanti possiamo farla ingherare ci da o armi io ho 3.5 ho quelle gemme sono tutte da quella porta allora possiamo comprare le bibite i tipi che ti da la vita la velocità ricarica veloce e poi c'è il potenziamento dell'arma ma dove le comprate? quello ora dobbiamo andare dall'altra parte ci siamo vicino qua c'è quello che potenziare l'arma il primo potenziamento è 5000 qua 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 è e quello ci andiamo dopo a difendere quello prima che si attiva ci dobbiamo andare là se no niente qua c'è il paga punch vai arrivo arrivo quanto è 5000 il paga punch? i 15 i 15 vabbè te lo faccio subito qualsiasi che perché io ho finito qua? ti ho avuto ti ho avuto poma hock ti ho ammazzato vieni qua vieni la giardy che te lo passo dov'è? ah no 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 da me no grande ah col sede voglio si può mettere i piccini e fa cappucci eh... yeah rispettate questa eh... ecco ragazzi ragazzi c'è una più sola con questo farò faville minchia cric che mi ha dato combatti meglio una pistola qua sopra ve lo assegnate c'è anche uno scudo uno scudo lo posso vendere pure io qua so cos'è la pistola vediamo ah no vabbè prenditi lo scudo disponibile raro andiamo a prendere la ricombenza dov'è lo scudo io ancora l'arma non la posso ma io voglio il bagapuncio comunque non ho trovato lo scudo 5.000 pippo ora ci torniamo anzi appena potenziamo l'arma al primo livello andiamo a fare l'obiettivo vabbè stronzo non morto schiacciato mamma va bene prendiamo ste munizioni si che no non me li fa prendere vabbè vuol dire che siamo forse siamo abbattati no riprendiamo tutti per tutti a me pure lo dà per due per una vita no però non ho fatto non ho fatto non ho fatto andiamo e se qui ci sono i monti più veloci che puoi non si è qui ci sono i monti più veloci che puoi andiamo a fare i difetti andiamo lancia un tomahawk così ah no no facciamo qua raggiungiamo raggiungiamo il launch faccio così ci arriviamo veloce ok vabbè questa c'è 500 va a spezzare i soldi va a spezzare i soldi un nodo oh non ho a gay questo di là questo dove c'è il difetti a sinistra dove c'è il sinistra un nodi il suo uomini sono morti l'esemplare è ancora intatto la mia squadra effettuerà l'analisi non dimenticate la testa di l'esemplare ho preso la testa di l'esemplare bellissimo ho preso la testa di l'esemplare posiziona posiziona e difetti l'esemplare è ancora attivo credo stia trasmettendo un segnale vai ce l'ha con noi nemici in avvicinamento proteggete la stazione DASA fino al termine dell'upload se distruggono quella macchina perderemo informazioni preziosi 4-2 2-2 ha lasciato uno stress azzo 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 arrivo 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 ok guarda vai andiamo arrivo notevole sta comunicando vuol dire altri nemici in avanti che vi toscia avanti che mi toscia avanti e da 1 per 2 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 1 per 1 1 per 2 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 1 per 1 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 1 1 per 1 per 1 1 per 1 per 1 1 per 1 per 1 per 1 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 per 1 1 per 1 per 1 1 per 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 1 Sì, va bene da ora! Vai, vai, vai! Senta e stanna! Forse ci siamo. Quello dovrebbe essere lo scorcio giusto. Vai, 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 vai! Sì, va bene da ora! 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 Eeeh, no! Ora ci do quelli cross in qua! non c'è di che a porco 2 e qua sotto ne abbiamo uno vai 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 e stai chiesto ora ci siamo qua vicino abbiamo anche il pagamento così appena raccogliamo i soldi lo compriamo subito comunque abbiamo una ricompensa si anomalia c'è ricompensa disponibile mi ha detto che c'è qua dentro che non ci siamo stati possiamo andare a guardare oh c'è uno grosso qua yes ucciso ucciso allora vedi devi andare in questa casa grande che non ci siamo andati c'è un po' di gente davanti a c'è qualcuno aspetta eh viso tu uccuri stronti urlatore ucciso specialità ma io ce l'ho quasi quasi carico io ce l'ho carico io ce l'ho carico dov'è che si fa l'arma avvia una prova cos'è questa cosa quello che ho preso si fallo fallo così non per due vai bravo come faccio eh disco di ricompensa ce l'ho messo lì ricompensa anche qua raga ma come faccio a fare l'arma eh la prossima ce l'ho ora e ora di pagapoggio ci andiamo dobbiamo prendere 15.000 ah tu c'era chi c'era? io io c'era c'era cosa faccio l'ho bro ragazzi ci hanno cristalli a tempesta qua sono riparazzato gem cassa c'è una piastra qua ragazzo c'è una piastra qua meglio ok dove andiamo? cos'è quel coso la tipo col giravite cazzo fa ok ok il giravite eh dov'è? è sopra voglio vedere qui c'è qui c'è qui c'è faccio un sacco di zombie ragazzi dove sono io mi sono magari è giusto dove cazzo è questo qua eh oh ma dove cazzo siete? arriva arriva io sono andato io sono andato credo scuagli ai cervelli scuagli ai cervelli mamma ragazzi ha una vita ha un aura un'aura in bel pul해 Oh oh ma dove stai facendo qua? eh ne ho ricevuto ok oh la la stimolante buono quindi dobbiamo fare tutti i 15.000 oh scoglia cervelli a questo dobbiamo prendere è un'abilità della paga punch converti un nemico ad amico ma raccoglie senza il materiale come è la visuale? 80 mi sa 80 è giusta cosa? centro grafico? la visuale quanto? 100? io l'ho messa a 115 così dicevi va più veloce però non vedi la profondità calcola dai queste cose andiamo fra io l'ho messo a 120 ma mi pare uguale che è visuale visibile ah ok si si la vedo no 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 si ma troppo l'ho messa fra io ho letto che la perfezione è a 115 ma non c'è su worldzone sta cosa no no sunnet s da pc da pc grazie mi sto dietendo troppo che me lo vuole meredetto mi sto dietendo arrivo 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 non lo consumare non lo consumare ci arrivo 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 a bomba sto arrivando qua è pieno di lotti ragazzi tu ti copro ti copro non si ripeterà che facciamo che facciamo che facciamo che facciamo raga ma lo posso fare so applicaremo delle armi altro zombie ucciso si o qua sono? si 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 oh sono screndo un famoso bit rail e mi ha risposto vai non lo posso fare so non lo posso fare so Sì! Sì! stiamo io hanno freddo oggi allora la sotto c'è un punto interrogativo nella ma allora io ho 17.000 ma come fare stai anche allora ma comunque questo 100 metri mi stanno girando sacco di carne è strapazzato dobbiamo affa l'azione ricompensa l'azione ricompensa non ho caduto dal quad oh sto modificando arrivo arrivo ok possiamo andare verso l'altro in più andiamo dall'altra parte ok e c'è la modificata ammazziamo di tipo da un tetto da una posizione elevata da un tetto da una cima arrivo da voi cazzo mancano 15.000 la sopra il tetto di qua penso che vale arrivo arrivo l'importante è che siamo dall'alto l'importante è che li ammazziamo dall'alto non si passa allora dal camion ne va bene pur si dal camion ma che cazzo è mi lanciano la roba ma si permetto ma cazzo 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 ma cazzo year mamma mia ai che cazzo cazzo how di si sta caitto bomba atomica c'è un milano a chi interessa c'è un milano massima potenza massima potenza non lo so che cos'è questa cosa e appena ci spari ammazza tutti praticamente sarò c'è un coso qua prendilo comunque dopo a warzone esce a terra andiamo andiamo verso andiamo verso l'obiettivo a 130 metri vicino andiamo faccio le munizioni oh baby passa qua stiamo partendo? adesso oh il pacapo aspetta mi compro la bibita eh 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 io mi ricordo non è una macchina non è una macchina munizioni di mondo io mi prendo devo ammazzare devi fare le missioni e ammazzare i zombie sono ah no ah no pippo ho la modalità più bella di tu è la modalità più bella di sempre questa sì sì è bella bella comunque con questo tunnel c'è la canzone di caparenza sono pure dal no no qui Strauss ho perso il contatto con uno dei miei raccoglitori di Ethereum mandate la squadra d'assalto a indagare ricevuto squadra d'assalto diretta verso l'ultima posizione nota guardate che stavo lasciando il gas guardate che stavo lasciando il gas guardate che stavo lasciando il gas Sì, ma poi c'è un'altra cosa, non c'è un'altra cosa No, prendi il gallo, me lo faccio subito Raga, io ho preso una da terra a livello 3 Vabbè, a livello 3 No, no, a livello 3 No, a livello 3 Raga, c'è la gente che ha Ficca che siamo a livello 2 del passato Sì, sì, ficca la torre Ficca, guarda come lo standi questo, è un piacere No, no, aspetti, ora dovrei farvi due Peppe Dovete raccogliere Dovete raccogliere Non montare più a destra Peppe già ce li hai soldi Potrebbe farla già a livello 3 Peppe, li deve chiudere, va Eh, non so, non so Non so Non so Non so Non so Tutturare Ah, sì l'ho vista L'ho vista, l'ho vista Fa chiaro No, dovrei provare se c'è il gallo in giro Voi trovare il gallo Cosa direzione within? Cosa c'è? Tutti cascavano allucinante Qua ci sono la ricompensa Uccide i nemici utilizzando attacchi corpo a corpo Ah fantastico questa Ma io il coltello non ce l'ho Fuggi i doffi Fuggi i doffi dai Vai su Terminator Vai ragazzi i punti doppi dobbiamo fare in un bel po' Raga quando potete uccidete li a corpo a corpo Qua ce n'è un po' Qua ce l'ho Arrivo da te arrivo da te No 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 Arrivo 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 Che cosa Che cosa Ah vaia Non succederà più Che cosa Vabbè vabbè ora lo abbacchiamo Grazie 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 La missione ancora non la attiviamo Ho trovato l'essenza Ok Non attivate la missione ragazzi Ancora stiamo inguaiati No 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 Che possiamo andare nell'altro Tanto stiamo andando bene Per lo scudo Mamma si La prima mano A ver se le comincivo A ver se le convenzo la prender Si Si Sei morto faccia da culo Vai vai Arrivo arrivo da voi A ver non è il bo Citi nemici IA o speciali O elite Io sono su questa torre in mare Sono fantastico Con il ciclo Dai non salgono questi Salgono ma è tempo che salgano sulle scale Spuchi Dove 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 L'ho visto Vieni qua vieni qua Spara Spara ci va No Ah va a cagare Non è vero Non ci credo Mai più Capito Per un soffio No Frami devo fare Questo era uno special Elite Sto Sto destermiando Frami Sto 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 Andiamo Sto 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 Andiamo Andiamo al palazzo del latino Serve un po' di scudi Serve un po' di scudi Serve un po' di scudi Sì Vai tipo prenditi lo scutolato Stordente Prendo Prendo Presto Tiro Punto Mh E' Mh E' Un po' di scudone e poi io direi dopo questa ricomanda arrivo da voi l'hai fatto con il coso, ah Vito, quello con il che salta sì, salti, salti dalla cima un po' più alto e poi eccomi a me niente ricompensa niente ricompensa ok c'è uno con l'altro bella arrivo, arrivo, arrivo peppe lo ti muovo non mi sto muovendo sento che non ho la macchia quadrata oh aia non me la fa fare ok vabbè no ma che cazzo è ok fermo ce l'ho vai grazie doc mi devo fare le munizioni nice cazzo è rara cazzo è rara cazzo è rara cazzo è rara riconvenza rara ricorre se non lo attiviamo più cazzo è rara cazzo è rara cazzo è rara cazzo è rara continua so ok andiamo andiamo sta arrivando verso l'obiettivo lo so che ti assalto vai vai poi arrivo vai a tutta birra e dopo questa abbiamo finito vero teorie no 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 o te come è diventata l'arma recuperate l'etherium e caricatelo sul razzo di estrazione io l'ho l'etherium l'etherium inizia a degradarsi non appena viene ribosso stanno arrivando arrivo 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 un bomba arrivo 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 vi ho preso il contenitore taro vai a prendere la macchina io restiamo qua a coprire lui guarda la macchina la bomba la bomba vado io ok vai ragazzi stiamo vicini hai trovato la macchina ok però stavolta saliamo tutti in una bomba dai 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 che ho due minuti va a ristalire vai vai tutti sopra tutti sopra ok vai arrivo un contenitore è a terra minchia minchia se qualcuno ci vuole vai non c'è la scena vai lancia la scena recuperate recuperate andiamo 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 vai tutti sopra tutti sopra tutti sopra andiamo andiamo siamo là 45 secondi minchia danni critici mamma mia no di davanti raga un operatore ha lasciato a terra il contenitore arrivo 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 copri copri 10 secondi 20 secondi copri 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 vai 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 taro vai vai fatto luce verde per il lancio strauss requiem potete lanciare appena pronti che è la cosa del drago andiamo andiamo qua una bomba vai il satellite conferma che il razzo è in rotta per il punto di consegna grazie dell'assistenza ora le mie ricerche possono procedere spedite mamma mia che è cellato mamma mia bebbino dove cazzo sei porca pure andiamo ad attivare il drago faccio io rimaniamo secchi così vai via il trago vai ragazzi arrivo 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 non morire ragazzi venite qua ragazzi 2 8-2 Giovanni corri 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 7-3 8-3 8-3 9-5 10-3 13 15 15 16 Perpino Perpino Sto marcando tutti i bottoni Ah vedi dove stanno E infatti Io pure Non ho niente Anche io Mi da rientri in 40 secondi Questa è cosa Mi ricevete Bastardi Però Quasi è più veloce Attenzione Se vuoi fare più veloce Si ma è durata un macello No ma non lo sapete 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 E Beppe Dove A zombie No zombie no di nuovo Io voglio andare a warzone No io non vado a warzone E Giovanni sta facendo warzone Io voglio farmi I due partite Sì a forza Vabbè Allora noi Noi due Noi facciamo Noi facciamo Noi facciamo Noi facciamo Noi facciamo Che sento scusa Vabbè 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 Grazie a tutti